Questo nuovo essiccatorio che abbiamo visto assieme oggi fa parte di un investimento di circa 10 milioni di dollari, circa 9 milioni e 200 mila euro, che la società ha voluto investire qui nell'impianto produttivo Corteva, Sementi, Pioneer di Sissa. È un essiccatorio di nuova generazione che migliorerà molto la qualità finale del prodotto per i nostri clienti, sia italiani che europei. Questa nuova tecnologia, che fa parte di questo investimento del nuovo essiccatorio, è unica in Europa. La società in anni precedenti ha investito in Sud America e Nord America, ma con orgoglio dico che il primo paese europeo dove si è trovato questo investimento è l'Italia. Oltre alla, come l'ha già menzionata, qualità del prodotto, che verrà sicuramente migliorata, già eccellente, che migliorerà ancora di più, comporterà questo risparmio innanzitutto come costi sia di energia elettrica che di gas e dall'altro punto di vista un accorciamento dei tempi della campagna, che sappiamo appunto come importante in agricoltura quando si deve raccogliere un prodotto, riuscirlo a farlo nei tempi, più celere possibile, per evitare decadimento qualitativo al di fuori, appunto, dello stabilimento di produzione e avremo quindi una riduzione sicuramente di parecchi giorni grazie alla nuova capacità di questo impianto. Grazie. Grazie.